Impara l'arte e mettila da parte. Ben ritrovati! Avete scritto la letterina a Santa Lucia? Noi siamo arrivati al nostro secondo appuntamento dedicato alla nostra santa preferita. In Accademia Carrara c'è un quadro che rappresenta una ragazza distesa per terra a cui stanno cavando gli occhi. La scena è assolutamente fiabesca e ci fa sognare. Ci sono tantissime architetture incastonate nella tela, nella tavola in questo caso perché si tratta di un dipinto fatto su legno. Gli edifici hanno un aspetto orientale, un po' fiabesco, un po' magico. Ci sono tantissimi personaggi che quasi inutilmente affollano questa storia. Personaggi che sono vestiti in una maniera particolare, che hanno soprattutto degli strani cappelli in testa, che ci parlano di un mondo lontano. Ai loro piedi si sta in realtà consumando un martirio. Cioè c'è questa ragazza distesa, dietro di lei il carnefice, che le sta togliendo gli occhi. La scena rappresentata è molto cruda, rappresenta qualcosa di fortemente drammatico. Eppure il pittore che l'ha dipinto, che è Giovanni d'Alemagna, ce la racconta come se fossimo all'interno di una favola. Siamo nella metà del 1400. In questo periodo i pittori volevano mettere sulle loro opere soprattutto l'eleganza. E quindi per fare questo riempivano i loro quadri di dettagli, di curiosità, di personaggi, come in questo caso. Ma chi è davvero la santa? Perché di santa si tratta, avete visto che ha l'aureola in testa, che è distesa per terra? Santa Lucia? O forse un'altra santa? In realtà questa è Santa Lucia che non è Santa Lucia. Insomma, il mistero di Santa Lucia. Per sciogliere questa enigma c'è solo una soluzione. Quella di munirsi di una lente di ingrandimento e di correre, quando sarà possibile, in Accademia Carrara. Con la lente di ingrandimento osservate bene tutti i particolari, osservate le didascalie che ci sono sotto e il mistero vi sarà prontamente svelato. Quindi mi raccomando, lente di ingrandimento, curiosità e ci rivediamo, magari insieme, in Accademia Carrara. Vi aspetterò.